...negative dalla vecchia programmazione per poter evitare gli errori e quindi... ...molto semplice. Abbiamo avuto difficoltà... ...diffondere nella nostra regione le specie di ingegneria naturalistica e quindi... ...dove c'era un pericolo agovionale, dove c'erano dei centri abitati a... ...tutto sistemazioni con prigli, legname e trame. E' bene, è successo che naturalmente poi noi su Gargano, come sapete, abbiamo quasi... ...le procedure di... ...un pubblicizzato da lei che non è una provincia, sapeva che... ...è successo che non è una provincia, sapeva che... ...sì, la rilasciata... ...dopodiché è piaciuta a noi, a limite faremo una presa d'acqua... ...faremo una... ...dicolazione di impatti... ...procedure, di valutazione di impatti... ...delle piccole opere di ingegneri naturalisti da un metro... ...dicolazione di reciclientazione... ...che noi che siamo della materia, sapevamo benissimo... ...partite nel 2011... ...stiamo nel 2017... ...non dovete calpestarla... ...un'altra che ci ha detto... ...ma di...